A Coldiretti si è svolto un incontro con la giunta del comune di Pistoia, in particolare con l'assessore Leonardo Cialdi e la presenza dell'altro componente dell'amministrazione, Gabriele Sgueglia. Un confronto con il mondo agricolo per parlare e fare chiarezza sulla semplificazione dell'itera autorizzativo delle serre, tema che nei mesi scorsi ha suscitato tanti dubbi sul modo di procedere e di lavorare dal punto di vista normativo. Noi dal primo momento ce ne siamo occupati cercando di sollecitare una soluzione. Devo dire oggi l'appuntamento è giusto per fare chiarezza. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale e l'assessore Cialdi per l'impegno che ha messo, che ha capito quanto è importante per il nostro territorio. Siamo andati avanti con i lavori, vogliamo fare lo stato dei fatti. Quali sono le vostre richieste? La richiesta è di far chiarezza perché sta veramente mettendo in crisi tutto il territorio. Non si capisce ancora bene quelle che sono le regole da attuare, ma mi sembra che da quel che ho capito, dagli incontri fatti anche insieme all'amministrazione, che siamo sulla buona strada. Ci è stato chiesto appunto di istituire questo tavolo, abbiamo fatto questo tavolo con tutte le categorie, con le migliori professionalità che avevano al proprio interno e con gli uffici. Attraverso appunto questo lavoro di approfondimento siamo riusciti un po' a trovare la strada per cercare di sanare tutta una serie appunto di posizioni, con queste serie temporanee che effettivamente restavano preoccupazione nel mondo del vivaismo. Quindi secondo lei quando si potrà arrivare al 100%? Beh, dipenderà diciamo nei prossimi mesi. Sì, l'amministrazione dovrà fare alcuni passi più che altro per creare le sanzioni e quello che serve appunto per arrivare in fondo al percorso che a questo punto ha le norme in qualche modo della nostra interpretazione, queste sanzioni e queste fatti specie che ovviamente non erano previste nelle nostre tariffe e nel nostro ordinamento e spero che poi da questo percorso che noi abbiamo fatto su Pistole ne possano prendere per esempio anche gli altri comuni che sono interessati.